Siamo arrivati all'appuntamento settimanale con la cronaca dalla Valcuvia. La mostra su Giovanni Battista Piranesi alla Sangalleria di Arcumeggia, inaugurata l'11 agosto e aperta fino al 31 ottobre, continua a riscuotere un grande successo tra gli appassionati. Abbiamo intervistato i titolari della Galleria d'Arte, Luigi Sangalli e Flavio Moneta. Luigi Sangalli, la Sangalleria si apre con questa bellissima mostra di Giovanni Battista Piranesi all'incisione antica. Sì, noi diciamo sempre che ogni volta facciamo una bella mostra e qui siamo arrivati a fare una mostra veramente eccezionale perché stiamo esponendo delle incisioni che hanno 300 anni. Giovanni Battista Piranesi, l'abbiamo già detto più di una volta, è la prima volta che viene esposta nella provincia di Varese. quindi è abbastanza importante e si vede che la gente ha riconosciuto questo perché noi in due settimane circa abbiamo superato i 500 visitatori. Arriva gente da tutte le parti e qualcuno viene apposta per vedere queste incisioni. La Sangalleria sta avendo sempre più spazio all'interno di quello che è il Borgo di Pinto. La vostra è una scelta di migliorare sempre di più? Di migliorare sempre di più, non è facile, però vedremo di darci da fare. Flavio Monetto, una piccola introduzione sull'artista. Diciamo che Giovanni Battista Piranesi ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi uno dei più grandi incisori italiani. È paragonabile a Dürer se vogliamo andare all'estero. Qua abbiamo una serie di incisioni coeve di due tipologie. Una recca ha impresso a secco il timbro della regia calcografia, pertanto sono indatabili intorno alla fine del Settecento. È un timbino a secco che si può vedere lateralmente in ogni incisione. L'altra è ancora precedente a questa e trattasi proprio di incisioni coeve dell'artista. Stiamo parlando intorno al 1740, anno più, anno meno naturalmente. E reccano in filigrana questa simbologia che è un giglio, perché nello specifico tutte le incisioni di Piranesi, per essere autenti, che devono riportare una sorta di timbratura. Ecco, questo lo possiamo riscontrare nelle incisioni che esponiamo noi, che appunto hanno questa rappresentazione del giglio, che è possibile vederla in controluce. Piranesi è stato un eccellente incisore, è stato un architetto, se vogliamo, tra virgolette mancato. Lui si è dedicato all'arte incisore perché è rimasto affascinato dalle antiche ruine parlanti, come ne definiva lui, di Roma. Si è recato, nato nel 1720 a Moiano, Veneto, si è recato con i rappresentanti dell'allora serenissima Roma, intorno al 40 e ha iniziato a incidere. Morto nel 1778, aveva tirato più di 1500 lastre. I figli poi si sono trasferiti in Francia, hanno portato tutta la collezione dei rami incisi, è stata acquistata da Firmin Didot, e poi grazie e per merito a Gregorio XVI sono tornate in Italia, che sarebbe stato veramente un patrimonio a perdersi incommensurabile. Noi abbiamo contattato Don Paolo Rapponi, che voglio ringraziare pubblicamente, che è un archivista di Roma, ci ha dato dei consulti rispetto degli atti che abbiamo esposto e trovato in catalogo, e il dottor Mario Gorisassoli, che è il direttore del gabinetto delle stampe della Calcografia Nazionale di Roma. Voglio ricordarli, grazie a De Ambrogi per questo fondale che introduce un attimo in quello che è veramente l'aspetto architettonico dell'antica Roma. La perfezione delle stampe, delle incisioni, perdono, è veramente inusuale e eccellente. Abbiamo un dettaglio che ogni giorno che si osserva la stampa si scopre qualcosa di nuovo. Piranesi è stato veramente il massimo esponente, lo ripeto, dell'arte italiana del Settecento. Adesso Bontassua riposa su L'Aventino, tra l'altro lui ha curato anche l'unico lavoro di ristrutturazione di questa chiesa, dedicata ai Cavalieri di Malta, che si trova su L'Aventino, dove riposa. È morto a una chiesa che si chiama San Giovanni alle Fratte, in Roma, e noi ringraziamo i collezionisti che hanno messo a disposizione questo patrimonio, veramente, e speriamo che la mostra abbia l'adeguato e giusto riconoscimento da parte del pubblico. Piranesi è un artista che comunque è un uomo del suo tempo, ma ha anche aperto un po' la strada a quello che è il gusto della rovina, quindi anche quello un po' del primo romanticismo. Sì, 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 naturalmente è vero, lui ha collaborato poi con Vasi, a Venezia ha conosciuto Tiepolo, insomma, dobbiamo pensare che l'allora, allora Roma era un crocevia veramente di interessi culturali, artistici, economici, infiniti. Tanto è vero che poi Rezzonico, che è stato Papa Clemente XIII, un Veneto, non ha fatto altro che supportare poi e dare il riconoscimento al valore del suo compaesano, se così possiamo definirlo, che è stato Piranesi, per cui ha avuto anche un sostegno notevole rispetto a questo. E l'allora a Roma era veramente il crocevia di tutto il significato culturale, artistico, d'Italia e addirittura d'Europa.